Musica Ben trovati tra i spettatori di TV6 e l'appuntamento con le previsioni meteorologiche per la giornata di domenica 26 febbraio. Dall'osservazione della mappa del tempo medio per l'Italia possiamo notare che avremo condizioni di tempo stabile, spesso soleggiato su gran parte del centro nord, mentre fenomeni di instabilità potranno ancora interessare le estreme regioni meridionali. La ventilazione risulterà ancora sostenuta dai quadranti settentrionali e i mari saranno generalmente mossi o molto mossi, mentre per quanto riguarda le temperature queste risulteranno ancora sotto media stagionale, in particolar modo lungo le regioni adriatiche, ma di poco. Per quanto riguarda l'Abruzzo al mattino le condizioni meteorologiche risulteranno stabili su tutto il territorio regionale con i cieli che risulteranno sereni. Per quanto riguarda il pomeriggio e la sera le condizioni meteorologiche continueranno a risultare stabili su tutto il territorio, ma potremmo assistere a passaggi di nuvolosità alta e stratificata. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento. Vi ringrazio per l'attenzione e al prossimo aggiornamento.